Io sono uso mantenere la parola data, mantenere l'impegno preso con i 60 milioni di italiani, questo impegno preso riguarda una coalizione di centrodestra con cui abbiamo il diritto e il dovere di governare nei prossimi anni. Questa è stata un'impegno di più di 30% di l'italiano electorate. Questo è stato fatto principalmente per il protesto, anti-regime e anti-establishment movimento, in cui il 5 stanz movimento è molto buono in channellare le ballo.